Perché acquistare da Gucci o da altri brand di lusso quando ormai sapete benissimo che è arrivato online il nuovo merchandising di Croatomist? Stiamo parlando della seconda edizione con una nuovissima colorazione e un nuovissimo design. Vi lascio il link in descrizione e vi ricordo di taggarmi su Instagram non appena riceverete i prodotti, così che potrò condividere tutte le vostre stories. Adesso è arrivato però il momento di flexare con stile. Link in descrizione. No, no, ma dipende chi è il terzo, dico. No, ma dipende chi è il terzo. No, ma dipende chi è il terzo. Bro Dai io no Mi dovete dare abbastanza tempo in questo momento Sta un po' fa schifo Fa schifo raga Ragioniamo su come è stato questo giocatore Io ho fatto quel danno della madonna Perché nel momento in cui Quando è che effettivamente lo vuoi utilizzare Faccio un esempio Se per esempio lui sta salendo E riesco a fare una roba del genere Allora ok Ma è praticamente l'unico momento in cui lo utilizzi Ma sei miss Ti entra nel box con questo pompa Tu hai questo pompa Cioè Le probabilità di uscire vivo Sono veramente poche Poche Perché senti una macchina ora Se devo uno Suonare senti Ma da sermata Tutta l'ora Perché non mi ha sparato il pompa Cioè questo pompa Quando un giocatore del genere È forte Ma perché questo è scarso È normale Ok che io ripassavo tutto quanto E quindi l'ho bloccato Però era proprio Cioè non era forte questo qua No Che mira ragazzi Quanto ci metto a sparare Quanto ci metto a sparare Raga ma non spara Ragazzi non spara sto coso Questo coso non spara Cioè non spara Martina ma questo pompa è fortissimo Ma cosa dici Martina Martina Ma cosa dici Altina Far è la è la no lo dico no ben belli Se potessi rimpiazzare sempre così sarebbe un mondo molto più divertente Per me, e meno per gli altri, però va bene Sono dettagli questi qua Ponte pericolante Come sta un ponte pericolante? Io non sceglierei mai, ragazzi Mi serve la kill Sono morto Parco, car Questa la OG mi dico Ancora bianco è questo? A che si ha fatto tutta la rotation? Poi però che p***o Oh, è la ground, non ho capito Vedi, vai di SMG, è molto meglio Cioè letteralmente tu giochi di SMG in questa season, è molto meglio Perché giocare di pompa? Se non di tattico, ma comunque l'SMG è troppo più forte Dai, però Che c***o Che? Noi ragazzi, qua sotto sono andato Fino del nave Vabbè, non me l'ha vinto Vabbè, non me l'ha vinto Vabbiamo a rubare, dove abbiamo a rubare? Body Grazie Rai Vabbim Vabbiamo... Alla Rai Vabbiamo Per Vabbiamo Vabbiamo Par dai pg ragazzi bella partita considerando che ho giocato tutta la partita con il pompa che io odio e con il pompa che ritengo assolutamente ridicolo che non dovrebbe esistere alla fine poi l'ho cambiato nel senso quando quando sono rimasta, quando ho mazzato il penultimo nemico, lì ho deciso di prendere il tattico, quello viola, quell'ora, non mi ricordo neanche il colore perché ho detto se no perdo il fight 1-1 sicuro, infatti l'avrei perso in quella situazione lì avrei perso il fight non avevo più materiali quindi lì sono stata costretta a cambiare il pompa se no avrei continuato l'intero gameplay con il pompa, quello di prima e basta grazie a tutti grazie a tutti